I carabinieri del nucleo radiomobile di Fano hanno arrestato un italiano di 37 anni senza fissa dimora per lesioni e minacce ad alcuni passanti e per resistenza pubblico ufficiale. Fatti tutti accaduti nella centralissima piazza Veduti, nei pressi della pista di ghiaccio all'aperto allestita in occasione del periodo natalizio. Erano circa le 18 di ieri pomeriggio quando è arrivata al 112 la chiamata di una ragazza del posto che chiedeva l'intervento immediato dei militari per un uomo in evidente stato di alterazione che dava in escandescenza e senza controllo a causa dell'abuso di alcol, che dopo averla aggredita senza alcun motivo, sferrandole un pugno al volto, continuava a minacciare e colpire con calci e pugni prima il compagno, accorso in suo aiuto e poi anche le altre persone presenti, tra cui i pattinatori della pista di ghiaccio, creando grande scompiglio e apprezzione tra la gente. Dalle indagini successive poi dei carabinieri è emerso anche che il giovane durante le aggressioni avrebbe tenuto condotte oscene mostrando le proprie parti intime ai presenti. I militari arrivati rapidamente sul posto hanno trovato il giovane ancora fuori di sé, che farneticando frasi sconnesse ancora non aveva scaricato tutta la sua collera e continuava a rivolgersi ai passanti in modo minaccioso e aggressivo, in vendo contro tutti. Quando i militari poi hanno tentato di riportarlo alla calma, l'uomo di tutta risposta invece si è scagliato anche contro di loro, costringendoli ad ammanettarlo e dichiararlo subito in stato di arresto. Nulla di grave fortunatamente per la povera vittima, salvo un grande spavento per l'inaspettata e violenta aggressione. Nella mattinata di oggi si è tenuta l'udienza di convalida richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, unitemente al rito per direttissima, all'esito del quale il giovane ha patteggiato la pena in nove mesi di carcere.